Ecco, si sta concludendo il cammino di circa 8 chilometri, siamo ai piedi del Nuraghe provenienti dalla chiesa campestre di Sant'Ignazio. Una piagerella che non ha recato tanto disturbo, ha segnato questo dodicesimo cammino. Allora, due parole su questo altro cammino che abbiamo fatto. Non avevo mai visto la chiesa, quindi mi sono molto colpito. Poi tutta questa gente, certamente l'esperienza, immagino che stia continuando a richiamare tanti amanti della camminata, dello stare insieme, quindi posso dire che sono molto molto contento anche di essere venuto insieme a mio figlio. Eccolo qua. E ci vuole anche questa pensione. Ecco, certo, bisogna far crescere. Jaime, tu sei rimasto contento di questo cammino con papà? Sì. Perfetto. Ma ci sono annunzato, non lo so. Ecco, perfetto.